In una zona impervia e boschiva di Urbino sono state ritrovate ossa umane, tra le quali un teschio. Il recupero dei resti è avvenuto lunedì da parte dei carabinieri della compagnia di Urbino in località Castaccolo, dopo la segnalazione di un cacciatore. Intervenuti sul posto, i militari, dopo essersi recati nella zona boschiva, hanno accertato che quello rinvenuto dall'uomo era effettivamente il teschio di una persona. Da quel momento, grazie anche al supporto di personale specializzato nei rilievi tecnico-scientifici del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro e la collaborazione dei Vigili del Fuoco, è stata effettuata un'approfondita ispezione dei luoghi, che ha consentito il rinvenimento di altre ossa riconducibili ad arti superiori e inferiori, ma anche uno scarponcino con all'interno ossa del piede, una maglia, un pantalone e un marsupio, all'interno del quale c'era un portafogli con i documenti personali di Maurizio Cesaroni, 68 anni. I familiari quest'estate, a luglio, ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri di Fano. L'uomo si era allontanato il 25 giugno dall'ospedale di Urbino, facendo perdere le proprie tracce nonostante le ricerche. Sarà ora compito della medicina legale effettuare le dovute analisi, per dare un'identità ai resti recuperati, che dopo una lunga e attenta attività di repertamento sono stati sequestrati e messi a disposizione della procura. Della scomparsa delle 68enne fanese si è occupata anche la trasmissione di Rai 3 chi l'ha visto. Tre mesi fa, nella pineta di Ponte Metauro a Fano, era stato trovato da un cercatore di funghi un cadavere mummificato, che dopo le indagini effettuate dalla polizia e l'autopsia è risultato essere di un giovane uomo di origine africane. La morte risaliva da almeno un mese prima.